La squadra giudiziaria della Polizia Municipale di Cremona ha accertato ieri pomeriggio che la società Ecoplanta ha avviato il proprio cantiere di Via Riglio a Cavatigozzi senza ancora disporre delle autorizzazioni necessarie. E' subito scattata la diffida, la pratica passerà all'ufficio edilizia privata del Comune, seguiranno poi un'ordinanza e una sanzione amministrativa. Ecoplanta ha presentato la propria richiesta di attivare un nuovo impianto di gestione dei rifiuti solo da poco. La domanda è arrivata in provincia il 19 maggio con uno studio di impatto ambientale di circa 80 pagine e già nelle settimane successive è entrata nel mirino degli ambientalisti perché il nuovo impianto tratterà 100.000 tonnellate di rifiuti all'anno, 15 all'ora, con il risultato di produrre combustibile solido secondario da bruciare nell'inceneritore di Cremona, a pochissimi chilometri di distanza, ampliandone quindi l'attività. Ecoplanta, che di fatto intende costruire un mulino di scorie per l'inceneritore, è stata fondata quest'anno, il 4 febbraio, controllata al 60% del gruppo bresciano Marcello Gabana e per il 20% ciascuno da Leonardo, altra società bresciana e da Crea, cioè Cremona Ecologia e Ambiente, società già insediata da anni in Via Riglio, nell'area industriale e attiva nel settore degli spurghi fognari. Il gruppo Gabana è attivo in vari settori, dall'immobiliare alla logistica, dall'agroalimentare, ma si occupa anche di gestione dei rifiuti e di discariche. Ecoplanta ha acquistato dal proprio socio Crea un'autorizzazione allo stoccaggio dei rifiuti, ma ha solo chiesto e non ancora ottenuto altri due documenti. Una variante non sostanziale dell'autorizzazione di cui già dispone e una variante stavolta sostanziale dell'autorizzazione integrata ambientale. Quest'ultimo documento è di particolare rilievo perché è soggetto a valutazione di impatto ambientale preliminare, quindi i lavori non potevano essere già iniziati. La verifica dei vigili ha considerato soltanto gli aspetti urbanistici ed edili del cantiere. Per l'esame dell'effetto dell'attività di Ecoplant sull'ambiente non è prevista però alcuna conferenza dei servizi. Le associazioni ambientaliste e il comitato di quartiere di Cavatigozzi sono stati sorpresi dalla rapidità delle richieste e dal periodo estivo. Il termine per presentare osservazioni scadeva infatti ieri. Il comune ha annunciato da alcune settimane la massima attenzione alla nuova iniziativa, mentre il settore ambiente dell'amministrazione provinciale si è detto disposto a prendere in considerazione le osservazioni delle associazioni, anche se saranno presentate in ritardo.